Ed eccoci qui anche in questa giornata di Natale per fare un po' il briefing generale di quello che sta succedendo negli ultimi giorni sui mercati delle cripto perché oggi alla fine è lunedì e quindi ho detto vabbè, post super cenone di ieri, post pranzone di Natale e vari sbevazzamenti, quale passatempo diciamo così migliore, quale break migliore, pausa migliore se non analizzare grafici, vedere un po' quello che sta capitando sui mercati delle cripto e che cosa in effetti potrebbe succedere questa settimana che ricordo comunque essere la settimana di Natale quindi teoricamente priva di quelli che sono scambi istituzionali importanti quanto meno fino alla 27-28 di dicembre. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e tantissimi auguri da parte mia a voi vostri cari e alle vostre famiglie per questo felice Natale 2023, un anno stellare, un anno all'insegna dei mercati delle cripto, della rivoluzione della blockchain, della rivoluzione dei mercati delle cripto e di bitcoin, miglior asset senza ombra di dubbio dell'anno 2023, ma di questo ne parleremo poi nel video del nuovo anno per rinaugurare l'anno 2024. Negli ultimi giorni non è successo granché sui mercati delle cripto, se non andiamo invece a valutare quello che è un grafico che molti di voi si ricorderanno, vi ho mostrato un tempo fa relativo alle altcoin, il grafico che ci indicava che l'altseason sarebbe partita, sarebbe iniziata al breakout di questa barra di congestione. Abbiamo parlato tanto anche dell'altseason nelle scorse settimane, quando vi spiegavo che verso la fine del mese di dicembre poteva avvenire in effetti una mini altseason, mini altseason che è avvenuta su molte delle criptovalute che sono senza ombra di dubbio alcune top, ma anche altre che erano un po' non nelle top 10, come per esempio Solana che ha dimostrato una forza incredibile superando anche addirittura BNB nella top cripto, come top cripto, e andando in pratica a dimostrare la sua forza, la sua ritrovata forza. Un incredibile rialzo quello di Solana, ma non una cosa strana ragazzi, anche questo per chi avesse visto le mie decine di video che ho fatto anche sull'argomento di Solana, ho indicato poi, va bene, l'entità del rialzo è stata assolutamente importante, ma questa zona qui era una zona di cap, cioè i 30 dollari, e il raggiungimento dei 70 dollari era l'aria assolutamente facile da raggiungere. Da lì in poi invece Solana ha dimostrato muscoli che veramente non era facile comprendere, però ancora una volta analisi tecnica da manuale, fase di accumulazione, breakout della fase di accumulazione della barra è impennata e diretta della criptovaluta, quindi assolutamente anche in questo caso un ABC palese da un punto di vista di analisi tecnica è un altro insegnamento di quelle che sono dati tecnici semplici, facili da utilizzare, che però sono potentissimi come in questo caso. Per quanto riguarda Solana, livelli di resistenza attuali erano i 80 dollari, che ha bucato, ha distrutto 70-80 dollari, era la fase che poteva raggiungere con tranquillità dopo il breakout di questo livello e c'è riuscita. Da lì in poi adesso sta decollando, andando a fare degli eccessi chiaramente, però come si dice, trend is my friend e quindi fino a quando la barca va lasciatela andare, questo è giusto così, bisogna essere ingordi, ingrati con il mercato da questo punto di vista, ingrati no, ma ingordi sì, perché quando il trend è a vostro favore bisogna lasciarlo andare, poi ovviamente dovete avere delle strategie di presa, di profitto quando inverte il trend. Quando inverte un trend, ad esempio come questo su Solana, che avvenne tra dicembre 2020 e giugno 2022, lo si vede poi con queste strutture di congestione dei ribassi, vedete, delle strutture così. Tra l'altro questo è un trend invertito che fece un triangolo di continuazione del trend per poi fare i massimi storici di Solana intorno ad aria 270 dollari. Incredibile questa fase rialzista, chi ne beneficia di più di questa fase rialzista? Badabam, ma indovinate un po' chi ne beneficia? Ed è FTX e i creditori di FTX, perché tra un po' dovranno iniziare le liquidazioni di tante position, anche di quegli FTX, quei Solana detenuti da loro, che sono tantissimi, e avere un prezzo così alto fa gola ovviamente ai creditori. Quindi sì, deriva da quello, no, non deriva da quello, crollerà perché liquideranno. Io questo ovviamente non lo so come nessuno lo sa, ragazzi, sappiamo solo che c'è questo trend imponente. C'è anche una cross delle annuali di Solana che dovrebbe avvenire intorno a marzo barra aprile dell'anno 2024, quindi teoricamente dal punto di vista ciclico siamo in fase di topping del ciclo annuale, ma questo è anche ovvio, poi magari riposerà un po'. Però ragazzi c'è tanto tempo, questo tempo con un mercato che spinge a questi livelli e non lascia segnali di inversione neanche a volerne guardare uno, ovviamente va compreso ed è mai andare contro un trend di questo tipo. Comunque prossima resistenza in area 141, dopodiché c'è questa zona di congestione che dovrebbe essere difficile da breccare in questa fase tra 140 e 265 dollari. Quindi questa area di arrivo potrebbe essere interessante. Vi faccio vedere anche un altro modo di guardare la cosa utilizzando i livelli Fibonacci di cui ho fatto il convivio per una strategia di trading importante ed è il livello teoricamente raggiungibile, sono 132 dollari, 161 che è lo 0,61,8 di Fibbo e poi i 200 dollari che sono lo 0,78,6 che è l'ultimo ritracciamento il più importante, quello tra i 61,8 e l'86 e l'88,6 che potrebbe innescare in effetti una fase di respiro. Quindi questa zona qui sembrerebbe che Solana, una volta toccato la zona di 0,5 come ritracciamento del bear market del 2022, possa in effetti riposare. Questo poi lo vedremo. Io fino a quando non vedo inversioni su grafici e qui non ce n'è neanche l'ombra, per me il trend continua fino a quando diciamo vuole. Allora vi faccio vedere il grafico della total market cap della DeFi, escluso Bitcoin, non della DeFi, del crypto, escluso Bitcoin, escluso Ethereum, escluso le stablecoin. Che cosa sta succedendo? Ha colmato un FBG, ragazzi per chi di voi non sapesse che cosa sono le FBG vi metto sulla mia testa il link di come si usano queste strategie di smart money e che cosa significa? E come quest'area possa essere in effetti un'area di arrivo di questo movimento a rialzo di questa mini alt season che ci aspettavamo appunto nel mese di dicembre. Questa fase comunque potrebbe ancora continuare perché l'FBG si colma fino a 450 billion di capitalizzazione, siamo a 388. Abbiamo analizzato questo grafico che eravamo ben più giù, mi perdo sempre nei vari menu di TradingView, mi perdo sempre, eccoli qui, i miei indicatori preferiti. Allora da questa zona in pratica alla FBG colmato erano più un 40%, questa tra le altre cose è una total market cap che quindi include anche quelle crypto che fanno praticamente schifo, scusatemi il termine, da questi livelli di prezzo fino alla totale conclusione 14%, quindi significa che ancora c'è un po' di tempo per questa fase. Anche qui la chiusura dell'annuale chiama sostanzialmente aprile 2024 indicando che la possibilità a questo punto di poter andare a spingere un po' ancora c'è. C'è Bitcoin però che è un po' rallentato ragazzi, rallentato nell'ultimo periodo che da dicembre 2023 non fa nuovi massimi, è attentato questa fase di doppio massimo che però se la guardate bene è un testa a spalle rivoltato con una neckline orizzontale che indicherebbe anche, se volessimo rappresentarlo in maniera molto chiara, vi faccio vedere il concetto della testa a spalle palese che è presente qui su Bitcoin di natura via alzista in questo caso che ha una struttura di una spalla disegnata qui, poi c'è la testa in questo modo, la seconda spalla che è appena disegnato, un'eventuale fase di breakout di questo livello e quindi dei massimi storici porterebbe, secondo la teoria di queste figure che a me piacciono poco, già ve lo dico in maniera chiara che, insomma in modo da avere chiaro anche il concetto, che però in questo caso a livello ciclico ci sta, quindi potremmo anche accettarla se dovessimo impostare un classico testa a spalle con livello di punto di arrivo è intorno ai 48-50 mila dollari il target a breakout di questo livello, lo farà nei prossimi giorni, aspetterà i primi di gennaio, ricordo la scadenza del 10 gennaio, saranno giorni di fuoco dopo le feste di Natale perché bisognerà comprendere la questione legata agli ETF di Bitcoin se vengono approvati o addirittura vengono rimandati poi a marzo, perché ricordo che l'approvazione dell'ETF di Bitcoin per quanto riguarda BlackRock non è a gennaio ma è a marzo, la scadenza, però ci sono tutti gli altri a gennaio e sono veramente veramente tanti ragazzi, quindi bisognerà vedere questa cosa. Un ultimo sdlancio finale che possa portare Bitcoin e quindi spingere anche questo grafico della Total Market Cap della DeFi e vedere tante altre criptovalute che stanno performando veramente bene spingersi, qui tra le altre cose io vi mostro uno degli elenchi che stiamo utilizzando nella mia Academy dell'Academy Trading Gone ragazzi per la nostra operatività, sono divisi in BTC, diciamo le stesse coin contro BTC e le stesse contro dollaro, quindi non è che sono tante insomma, sono poche perché io faccio sempre un crypto picking abbastanza accurato e sono tutti in questa fase, diciamo sono tutte positive, stanno galoppando stanno macinando delle belle performance, chi più chi meno, ma soprattutto c'è la questione legata al fatto che Ethereum ancora non sia minimamente iniziata la sua fase e che sembra palesemente spento, su questa questione dovremmo fare un video dedicato. Allora Bitcoin, la questione ciclica attuale, un po' di dubbi ci sono ragazzi, un po' il dubbio c'è, perché se noi volessimo indicare un ciclo mensile iniziato da questo minimo di 22 novembre, potremmo anche indire che questo ciclo sia terminato magari nella giornata di ieri o potrebbe essere terminato nella giornata di ieri. Dal mio punto di vista però questa forma che stiamo assistendo, questa forma di struttura ciclica di Bitcoin è un po' strana perché ha questa struttura di minimo nella zona del 11 dicembre e poi 17 dicembre con un doppio minimo che secondo me indica palesemente che qui si sia stato concluso, si sia concluso in pratica un ciclo superiore, quindi è possibile anche aver avuto una chiusura di un trimestrale di Bitcoin intorno appunto al minimo dell'11 dicembre o se lo utilizziamo del 17 di dicembre, questo perché? Perché la livello di close qui siamo il 17 a 41.345 e l'11 a 41.042 prezzi di Bitstamp, quindi pratica è la stessa identica cosa. Da un punto di vista di minimi stiamo invece con un minimo in chiusura sul 11 di dicembre a 40.181 contro il 41.260 del 17, quindi secondo me è più corretto in questo caso indicare la chiusura a 91 giorni di un probabile ciclo trimestrale di Bitcoin a questo punto indicandolo l'11 di dicembre, anche perché da un punto di vista di ciclo inverso in questa struttura da questo massimo dell'8 dicembre si è iniziato un ciclo sicuramente mensile inverso e anche probabilmente trimestrale inverso e quindi di solito anche per una questione di sincronia quando parte un inverso importante chiude anche un ciclo trimestrale importante su Bitcoin. Questa cosa secondo me possiamo iniziarla a prendere, a diciamo a pensarla in maniera corretta. Qui teoricamente che cosa significherebbe? Che dal 11 di dicembre al minimo di ieri abbiamo 13 giorni, quindi un ciclo bisettimanale, un metà del ciclo mensile. Ora a questo punto se siamo su un nuovo ciclo mensile iniziato l'11 di dicembre quando c'è barra di congestione come in questo momento è un po' difficile fare questi conteggi però io al momento aggiorno questa view rispetto anche alle precedenti che avevo impostato andandola a indicare in questo modo. Quindi secondo me è più semplice, 91 giorni di trimestrale, molto standard, molto comune, ma ci sta ragazzi e non è anomalo in questo caso anche perché qui abbiamo una struttura anche con una lingua di buyer corta che fa, lancia in pratica un ciclo mensile sicuro o se non anche un trimestrale perché potrebbe lanciarlo appunto proprio con questa lingua da sette giorni ma comunque un mensile lo lancia sicuro. Perciò se io vado a mettermi la mia scadenza mensile mi porta al 10 di gennaio con la possibilità di andare a spingere a questo punto proprio nei prossimi giorni vicino all'inizio del nuovo anno per fare questo breakout di questo livello e magari configurare un mese che si crea in questo modo prima della sua struttura di chiusura. Attenzione perché se è un nuovo trimestrale non è detto che qui questo mese sarà esplosivo possiamo infatti avere anche la chiusura del ciclo mensile e poi l'app nel nuovo ciclo mensile e questo è conforme anche a una struttura classica di ciclo trimestrale che indica una fase di ciclica di un mensile di riaccumulazione proprio a livello temporale, quindi 20-30 giorni di riaccumulazione prima di un breakout. Certo il tempo stringe e a questo punto bisogna cercare di comprendere secondo me nei prossimi giorni quello che farà. secondo me se vuole provare il break dovrà farlo verso fine anno, quindi manca insomma pochissimo. Bisognerà vedere appunto a livello ciclico questa fase. Io avrei preferito una fase di riposo ma tant'è che il mercato non la sta facendo quindi bisogna seguire. Questo da un punto di vista quindi analisi ciclica su Bitcoin e vi ho fatto vedere anche il mio grafico preferito, quello della Total Market Cup delusi tantissimi invece dal comportamento di Ethereum che ovviamente delude un po', delude le aspettative. Solitamente ragazzi, solitamente quando i mercati sono in una fase del genere, quando in sostanza non spinge una criptovaluta più di tanto significa che a livello di fase ciclica c'è qualcosa che non va che probabilmente non abbiamo compreso in questo frangente. Qui abbiamo fatto un minimo a 70 giorni e è probabile che non sia bastato per la conclusione del trimestrale di ETH e che quindi serva un po' di tempo e che ci porta magari ad una fase di riposo anche a gennaio, i primi di gennaio. Evidentemente c'è qualcosa un po' che sta trattenendo insomma la regina delle cripto e sta dando molto spazio invece ad altre criptovalute come Solana per esempio ma non è l'unica, anche altri layer 1 stanno performando molto molto bene. Vediamo che cosa succederà anche su ETH ma soprattutto ne parleremo in un video dedicato. Bene per oggi è tutto, ritornate ai vostri sbevazzamenti, buon Natale di nuovo da parte mia, a tutti quanti voi veramente di cuore, vi abbraccio in maniera virtuale tutti quanti, speriamo di rivederci dal vivo nel prossimo anno, nelle prime conferenze possibili e nel frattempo buon Bitcoin trading ed investing anche in questi giorni natalizi, soprattutto parlatene con tantissimi amici, tantissime persone. Ciao ragazzi!